In collaborazione con Antica Osteria Pacetti In via Borgo Incrociati 22 Rosso Da oltre 100 anni la tradizione a Genova In via Canevari Al 42 Rosso New Generation Al 56 Rosso Dentro e Fuori Arreda la tua casa Al 62 Rosso Midtown Cafè In via Bobbio Al 54 B Rosso Airdream by Elena Al 60 Rosso Ristorante e pizzeria New Sole Mio 4 di Antonio Al 42 Rosso Rosticceria Gente di Mare Al 54 C MS Moto Ccelleria da Claudio Via Canevari 215 Rosso Genova Corsi di ballo Lady Laura Dance School Salta New York Los Angeles Style Bacciata, merengue, zomba e molto altro Per informazioni contattaci su Facebook O chiama al 348 28 36116 Ristorante La Prodo A Tu per Tu con il mare Via del Porto 16 a Genova Renzano Fabri Gomme Via Canevari 134 Rosso A Genova Hotel Sommelier a Bardonecchia In piazza Statuto 3 Contattaci allo 0122 99582 Oppure invia una mail a infochiocciola Hotel Sommelier.it Buonasera cari amici Ben ritrovata la guida sportiva Sempre su questa emittente Come ogni settimana Ci siamo inoltrati anche nell'autunno E presento subito i miei ospiti Iniziando con colori veramente autunnali Ugo Maggi Presidente Ajax Saluto, ciao Buonasera a tutti E tornate a trovarci Corrado Franco Direttore Radio Brucerchiata Ciao Gabriele Buonasera ai telespettatori Ed è tornato a trovarci Un'altra grande coppiata Con Alessandro Giovinazzo Nelatore Portiere Entella Ciao Alessandro Buonasera a tutti Grazie dell'invito Iniziamo subito cari amici Come al solito Facendo un po' al punto Risultati e classifica Per voi Risultati della sesta giornata Del campionato di Serie A team Verona batte Cagliari 1-0 Milan batte Chievo 2-0 Empoli batte Palermo 3-0 Lazio batte Sassuolo 3-2 A Parma Genoa batte Parma 2-1 Sampdoria batte Atalanta 1-0 Udinese e Cesena 1-1 Juventus batte Roma 3-2 Fiorentina batte Inter 3-0 Napoli batte Torino 2-1 Veniamo ora alla classifica Juventus 18 punti Roma 15 Sampdoria 14 Udinese 13 Milan e Verona 11 Napoli 10 Lazio e Fiorentina 9 Inter e Genoa 8 Empoli e Cesena 6 Torino 5 Cagliari Chievo e Atalanta 4 Chiudono Parma, Palermo e Sassuolo con 3 punti Prossimo turno settima giornata del campionato di Serie A Sabato 18 ottobre alle ore 18 Roma Chievo Alle ore 20.45 Sassuolo Juventus Domenica 19 ottobre alle 12.30 Fiorentina Lazio Alle ore 15 Atalanta Parma Cagliari Sampdoria Verona Milan Palermo Cesena Torino Udinese Alle 20.45 Inter Napoli Lunedì 20 ottobre alle 20.45 Genoa Empoli Allora cominciamo parlando di Samp Inizio da te e da scusami da Corrado Un buon terzo posto direi inaspettato Questa Samp secondo te dove può arrivare? Allora inaspettato perché è logico Sei partite terzo posto Soltanto dietro Juventus e Roma Che comunque faranno e fanno un campionato a parte Insomma è importante per la Sampdoria questa partenza Inaspettato per questo Ma non per il gioco espresso Ma non per il cinismo Per la compattezza Per la solidità Per la coesione che sta insomma dimostrando la Samp di Mijailovic Quindi il terzo posto è inaspettato Ma meritato a mio punto di vista Adesso arriveranno insomma le grandi da affrontare Dopo la ripresa ci sarà il Cagliari E poi uno dopo l'altro Roma Poi naturalmente Inter, Fiorentina e Milan Quindi saranno dei test probanti Da Sampdoria dove può arrivare? Secondo me insomma diciamo che L'obiettivo è la parte sinistra della classifica Fin dall'inizio è stato detto che era questo l'obiettivo Magari ci possiamo spingere un po' più in alto Entro le prime 8, entro le prime 6 Non posso dire Champions League per Scaramanzia Ma soprattutto perché è difficilissimo da prevedere Perché dopo Juve in Roma c'è veramente un vuoto in questa Serie A Quindi anche la Samp si può inserire Però bisogna vedere un po' alla lunga Per il momento godiamoci due settimane di pausa Insomma al terzo posto Godiamoci questa Samp brillante Che comunque fa risultato E poi insomma chi vivrà vedrà Speriamo bene Alessandro Sicuramente la Sampdoria ha cambiato poco Ha programmato un'annata più tranquilla dell'anno precedente Il terzo posto a mio avviso Per come è attrezzata la Sampdoria Per come ha detto lo stesso Sinisa Forse è un sogno Forse anche inarrivabile Però magari un posto in Europa La Sampdoria può provare sicuramente a giocarselo Ugo c'è anche da dire che però Come diceva giustamente Corrado Non sono ancora arrivati le grandi Quindi forse Ce n'è ancora da aspettare Per fare pronostici Beh intanto Le caratteristiche della squadra Sassi vedono I punti Tutto c'è non cascina come si dice Non ha sbagliato Dove non doveva sbagliare Perché con le squadre con cui doveva vincere Ha fatto pieno risultato Si è secondo me rinforzata Pur lasciando la squadra Grossomodo con la Sampdoria Secondo me in difesa È un'altra Sampdoria Imperforabile direi che E poi sono convinto Di dire anche Tutte le domeniche Quando fai il risultato Aumenta l'autostima Aumenta l'autoconsapevolezza Di essere più forte Insomma diventi sempre più forte E ti convinci sempre di più Questo ripeto È stata una squadra molto razionale Molto cinica Si ha preso i suoi punti E poi è un conto Affrontare le grandi Con un solo momento Con punti alle spalle Giocando tranquillo Andandoti a fare la partita Sapendo che non hai niente da perdere È un conto Vieni ad andare con la cua alla gola Quindi la Sampdoria sta facendo Ma è bene Il terzo posto Non potrebbe non essere un minaggio O perlomeno La zona Champions Perché guardandoci intorno Poi Comincia il risultato Corrado C'è anche un livello Diciamo Tolte forse Juventus e Roma Le altre squadre Sì diamo un'occhiata Alla Fiorentina e al Napoli Però in questo momento Sono convinto Che la Sampdoria potrebbe fare Anche bene Sia con Fiorentina E con Napoli Perché ripeto La squadra Si vede che è cresciuta In maniera esponenziale Invece parlando di Genova Finalmente tre punti Era molto importante Farli dopo il derby Ugo Era fondamentale Anche se sono venuti Per l'auto della Cufi In ultimi minuti Anche se a occasioni Ne abbiamo sbagliato Però ripeto Era importante Per prendere un po' Di ossigeno E poi alla fine Ai miei che conta La classifica Giocare bene Non fare punti Non paga da nessuna parte Quindi Ci voleva Ci voleva proprio Ripeto Secondo me Sarà dura Perché appunto Per il discorso Che facevo prima Del grande rivelamento Che c'è Al centro classifica Con squadre Che sono potenzialmente Forti come Ted Tutte la mia città Deve giocare Quindi è stata Veramente Una mano dal cielo Ecco Perché altrimenti Sarebbe stata dura Per perdere anche a fare Anche tenuto conto Che il prossimo avversario È una squadra Che io stimo molto Che mi piace molto Che è l'Empoli Che ritengo sia Una squadra Da non sottovalutare affatto Da prendere con le molle Preparare bene la partita Beh non è che Devo segnare niente a nessuno Ma perché Guai sottovalutare l'Empoli È una squadra Che fa bel calcio Un attore che io stimo moltissimo Sare Un attore in gamba Che vende la gavetta Uno che La sa lunga la storia Poi l'Empoli È sempre stato un grande Vivaggio di giocatori Quindi Sarà una paetta dura E ci metterà la prova Assolutamente Sarà da prendere Con le pinze Con le molle Come si dice E essere concentratissimi Alessandro Non è per fare un po' L'avvocato del diavolo Però Il Genoa Sicuramente I punti meritatissimi Ma forse Non è sembrato Anche poi Chiederò anche a Corrado Il Parma Un po' Poca cosa Sicuramente Il Parma Mi avviso Sta pagando L'esclusione Dall'Europa League Il contraccolpo È stato forte Anche se il presidente Dice che Non è successo niente È stato forte Infatti il Parma È in grossa difficoltà Ciò nonostante Comunque La vittoria del Genoa Fuori casa È una vittoria importante Che dà morale Soprattutto dopo una sconfitta In una partita delicata Come quella del derby Io penso e credo Che il Genoa Quando recupererà Tutti i giocatori Anche infortunati Possa fare un buon campionato Perché Mister Gasperini Conosce l'ambiente Poi sono arrivati I giocatori importanti Avevamo già parlato La settimana scorsa Di Perotti Che domenica Si è riconfermato Perciò penso che anche il Genoa Possa fare Una buona stagione Corrado Sì sono d'accordo Insomma con la questione Del contraccolpo psicologico Perché fai una stagione Bellissima Come ha fatto il Parma L'anno scorso E poi per un problema Insomma burocratico Perdi l'Europa Ti cade il mondo addosso Quindi insomma il Parma Quest'anno poi dopo Ha ceduto parecchi giocatori Basti pensare Insomma Schelotto Che era andava bene Insomma le 4-3-3 Poi Cassano Magari è meno motivato Quest'anno Poi ha perso Biabiani Per il problema Che ha avuto Insomma cardiaco E comunque una risorsa fondamentale Sulla destra Biabiani La difesa mi sembra Meno compatta Meno covesa Insomma E poi c'è Molta depressione Nell'ambiente Cioè il Parma È una bella squadra Insomma a noi Doriani È simpatica come squadra E dispiace Insomma vedere una squadra così Però credo che sarà Molto dura per il Parma Salvarsi Ciò non toglie Che il Genoa ha meritato La vittoria Che dobbiamo essere Sempre onesti intellettualmente Il Genoa ha meritato Di vincere a Parma Quindi insomma poi Il campionato che farà il Genoa Io non lo Insomma lo voglio prospettare Secondo me Non è una squadra Che lotta per la salvezza Centro classifica Tranquillo Invece collegandomi Alla Samp Che ha battuto appunto Squadre Diciamo la verità Parte destra Quindi Torino Chievo Atalanta stesso E il derby Quindi queste squadre qua Lotteranno per la salvezza Non credo il Genoa Quindi insomma Ormai il campionato Inizia a delinearsi Da questo punto di vista Ugo Sì Ho già fatto un'analisi perfetta Perché evidentemente L'esclusione dell'Europa In maniera così dolorosa Poi punta per una cosa Burocratica Credo che L'abbiamo raggiunta All'ultimo momento Sul campo Se la sono goduta Se la sono vissuta E poi Trovarsi così Fuori dai giochi Per una cosa così Penso che Come detto giustamente Alessandro Sia Un elemento Fondamentale Quello che ha proprio inciso Più di tutto Al di là di come ci ha corrato Anche dei 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 Giocatori Che non ci sono più Che sono stati ceduti Però ripeto La botta psicologica Dessa fuori dell'Europa Mi ha Veramente dato E' stata devastante E non so se non è ancora ben assimilata Perché sai Poi rimane Ti rimane Faccio un piccolo paragone Il generale della Serie C Quando Ha vinto il campionato Poi per i notti motivi E' stato retrocesso Giustamente Quei dati alla mano In Serie C E' stata vissuta Tragicamente Sono di quelli Che l'ha vissuta male Come tifosa Quell'anno In Serie C E poi si è Si è vinto il campionato Poi ma Si è arrivati all'ultimo L'ultimo L'ultimo Si ricordate Quindi voglio dire Sono battoste Quelli Veramente Sono facili Poi da gestire Poi da superare Assolutamente Assolutamente Comunque Restate con noi Cari amici Di guerra sportiva continua Non mancate Tra poco In collaborazione con Antica Osteria Pacetti In via Borgo Incrociati 22 Rosso Da oltre 100 anni La tradizione A Genova In via Canevari Al 42 Rosso New Generation Al 56 Rosso Dentro e Fuori Arreda la tua casa Al 62 Rosso Midtown Cafè In via Bobbio Al 54 B Rosso Airdream by Elena Al 60 Rosso Ristorante e pizzeria New Sole Mio 4 Di Antonio Al 42 Rosso Rosticceria Gente di Mare Al 54 C MS Moto Caceleria da Claudio Via Canevari 215 Rosso Genova Corsi di ballo Lady Laura Dance School Salta New York e Los Angeles Style Bacciata Merenghe Pizomba E molto altro Per informazioni Contattaci su Facebook O chiama al 3482836116 Ristorante La Prodo A Tu per Tu con il mare Via del Porto 16 A Genova Renzano Fabri Gomme Via Canevari 134 Rosso A Genova Hotel Sommelier A Bardonecchia In piazza Statuto 3 Contattaci allo 0122 99582 Oppure invia una mail A infochiocciola Hotelsommelier.it Da oltre 100 anni La tradizione a Genova Immersa nell'atmosfera Di borgo incrociati Antica Osteria Pacetti È stata per tutto il Novecento Un punto di riferimento Per la cucina tipica genovese Dopo una sapiente ristrutturazione L'osteria riapre al pubblico Con una nuova veste Mantenendo saldi I valori che l'hanno resa celebre A livello nazionale Negli ultimi 50 anni di storia In via Canevari vi aspettano New Generation di Tony Buccola Parrucchiere uomo, donna, bambino Allungamento capelli E servizio spose Per informazioni o appuntamenti Chiamalo 010 839 3608 Dentro e fuori Oltre i giardini e i terrazzi Arreda la tua casa Solo a Genova In via Canevari 56 Rosso Midtown Caffè Ti aspetta per colazioni, pranzi e aperitivi Midtown Caffè Competenza e cortesia In un luogo amichevole e simpatico Corsi di ballo Lady Laura Dance School Salsa New York e Los Angeles Style Bacciata Merenghe Zomba E molto altro Per informazioni Contattaci su Facebook O chiama al 348 28 361 16 In via Bobbio vi aspettano Airdream by Elena Parrucchiera Unisex Martedì e mercoledì Sconto del 30% Su tutti i servizi tecnici Chiama il 349 086 2440 Per conoscere le nostre offerte New Sole Mio 4 di Antonio Dove non vi aspettano solo buonissime pizze Ma anche un'ottima cucina New Sole Mio 4 Da noi serate a tema E il menu del tifoso Per prenotazioni e informazioni Chiamalo 010 42 25 345 Problemi con scooter e moto? MS Moto è la tua soluzione Basta trovarci E la tua moto te ne sarà grata Per informazioni Chiamalo 010 839 6340 Vorresti saporare antiche ricette genovesi Come lo soccafisso accomodato La cima genovese La torta pasqualina Il polpettone La torta antica genova Con la quagliata Gente di mare Ti aspetta in via Bobbio 42 In collaborazione con Antica Osteria Pacetti In via Borgo Incrociati 22 Rosso Da oltre 100 anni La tradizione a Genova In via Canevari Al 42 Rosso New Generation Al 56 Rosso Dentro e Fuori Arreda la tua casa Al 62 Rosso Midtown Cafè In via Bobbio Al 54 B Rosso Air Dream by Elena Al 60 Rosso Ristorante e pizzeria Mio Sole Mio 4 Di Antonio Al 42 Rosso Rosticeria Gente di Mare Al 54 C MS Moto Acceleria da Claudio Via Canevari 215 Rosso Genova Corsi di ballo Lady Laura Dance School Salsa New York Los Angeles Style Bacciata Merenghe Zomba E molto altro Per informazioni Contattaci su Facebook O chiama al 348 2836116 Ristorante La Prodor A Tu per Tu con il mare Via del Porto 16 A Genova Renzano Fabri Gomme Via Canevari 134 Rosso A Genova Hotel Sommelier A Bardonecchia In Piazza Statuto 3 Contattaci allo 0122 99582 Oppure invia una mail A infochiocciola hotelsommelier.it Ben ritrovati Eccoci di nuovo qua Vi ricordo che siamo anche su Facebook Mettete mi piace A nostra pagina ufficiale Potrete anche Seguire la puntata Che state seguendo Su questo emittente E magari Mettere dei commenti Su quello che stiamo parlando Come adesso Parleremo con il nostro Alessandro Di Portieri Chi più di te Non può rispondermi E comunque ce ne sono molti In questo partire Comunque molto giovani Come la vedi la categoria In questo momento? Sicuramente Quest'anno in Serie A Ci sono portieri Giovani interessanti A partire da Perin Di cui ho già Parlato La puntata precedente Un portiere di prospettiva Che già nelle giovanili Aveva fatto vedere cose interessanti Io sono un estimatore Di Leali Il portiere del Cesena Che è di proprietà Della Juve C'è Cragno A Cagliari C'è Sportiello Sono tutti portieri C'è Bardi Di buona prospettiva Bisogna dargli Il tempo di crescere Perché è un ruolo Talmente delicato A me Io dico sempre Che l'anno scorso Perin Dopo la partita in casa Con la Fiorentina Era stato un massacrato Da tutti Acchittato come un brocco E poi ha dimostrato Il suo valore Sono ragazzi giovani È un ruolo Veramente delicato Dove Il minimo errore Lo paghi E lo paghi caro Poi Però Penso che alla fine I valori Se una società E una tifoseria Ti dà il tempo Vengono fuori Certo Allora volevo parlare Adesso invece di Perotti Un talento che Sicuramente non si discute E a Parma ha fatto la differenza E Ugo mi rivolgo a te Secondo te È merito del terzino Che diciamo così Gli copriva le spalle Per non farla faticare Oppure Il giocatore ha doti Naturali Che sono Sotto gli occhi di tutti Certo Secondo me Non dovrebbe essere impiegato Troppo in fase difensiva Perché se si fa rientrare Poi fatica Spende energia Non ha più la rigidità necessaria Si è visto anche nel derby Si è visto anche in altre partite Che lui Da buon professionista Ha fatto quello che ha detto Il suo mister Però In effetti Deve essere coperto Perché lui può dare il meglio Nella metà campo avversaria E secondo me Mi sbilancio un attimo Penso che sia il mio acquisto Che ha fatto il Genova quest'anno Tutti quelli visti Corrado Sei d'accordo? Sì Perotti già nel derby Mi aveva ben impressionato Il primo tempo Insieme a Edenilson Ha creato difficoltà Prima a Regini E poi a Mesba È un giocatore di qualità Va aspettato Sta iniziando a dimostrare Il suo valore Perché insomma È un giocatore importante Ha fatto bene Alla Siviglia Poi ha avuto un problema Anche insomma Di infortuni Che situazioni varie Se il Genova lo aspetta Se lui si trova Nell'ambiente giusto E soprattutto Tatticamente viene inserito In un contesto In cui può esprimere Le proprie potenzialità Può fare bene Perotti è un buonissimo giocatore Forse sono d'accordo E forse sono d'accordo Vuol dire che è il miglior acquisto Del Genova In questa sessione di mercato Adesso invece Volevo parlare di Gabbiadini Caro Alessandro Che non in canto Lo stesso Mielovi Ci ha detto Che pretende Di più Però comunque Sa di fatto Che continua a segnare Sicuramente Se si guarda Il tabellino Dei marcatori Ha già fatto cose importanti Per quanto riguarda Sinisa Penso che Non sia appagato Per quanto riguarda La fase difensiva Di Gabbiadini Perché sicuramente Un allenatore Pretende sempre Qualcosa in più Dai propri giocatori Ciò non toglie Che Gabbiadini Comunque dall'anno scorso Quando è arrivato Sinisa Ad oggi È migliorato Moltissimo Nella fase difensiva Dirò di più Secondo me a volte Sottoporta Paga un po' Anche l'affaticamento Di questo Doppio ruolo Che pretende Sinisa Dagli attaccanti Però è un ragazzo giovane Un ragazzo che si sta applicando Un ragazzo che ha voluto Rimanere alla Sampdoria Perché crede nel progetto Penso che Sinisa Gli abbia dato Un'iniezione di fiducia Che gli possa far fare Il definitivo salto Di qualità Verso Squadre Magari Più ambiziose Più Rinomate Con tutto il rispetto Per la Sampdoria Perché io sono sampdoriano Però ho un ragazzo giovane Che è di proprietà Da Juve Sempre Gabbiadini Ugo Concordi con quest'analisi Assolutamente Assolutamente condivisa Poi insomma Gli dico anche questo Quando riesci a buttarla dentro Fai l'attaccante Fai i gol decisivi Poi sai Voglio dire Ti si può perdonare Certo L'allenatore deve Visto che il ragazzo è giovane Deve Assumere questo atteggiamento Dicendo che pretende di più Per tenerlo sempre In tensione Per farlo crescere Però di fatto A me piace moltissimo Ma non da ora Mi piaceva anche l'anno scorso Un giocatore che non avrei Ho fatto bene Secondo me Alessandro era tenerlo Al di fatto appunto Diceva Alessandro Era Juventus E farà ancora molti gol Sinistro amicidiale Uno che vede la porta Insomma Voglio dire Poi sai Gli attaccanti Quando segnano Tanta manna Come sempre Quindi Ebbè sì Gli attaccanti deve segnare Poi è chiaro Che diceva bene Alessandro Se viene Impiegato anche In un ruolo che non è suo Nel contesto del gioco di squadra Magari si sfianca C'è altro che arriva Poi meno lucido Però vedi Che quando arriva Giura Questo è già dimostrato Che quando è stato Quando così In zona Parte Pum La palla La mette che vuole Lui Ha fatto un bel gol Domenica assolutamente Sembrava facile Perché diceva Ma ho fatto molto bene Anche se Si diceva Prima di passare Poi che mi gioca l'Alessandro Che forse È potente dell'Atalanta Ci ha pensato Un pochino A uscire Ma comunque Non voglio Significa il gol Di Gabbiadino Corrado Allora su Gabbiadini Vorrei fare due ragionamenti rapidi Uno Sui gol Gabbiadino ha fatto tre reti E quasi al 50% Dell'anno scorso Nel anno scorso ne fece otto Quindi insomma Siamo alla sesta Quindi alla media Un gol ogni due partite E ha portato Sui 11 punti Dalla Samp Anzi sui 14 Ne ha portati 9 Perché le tre vittorie Contro il Torino Ha sbloccato il risultato Nel derby Ha segnato lui Perché il gol è di Gabbiadini Contro l'Atalanta Gol di Gabbiadini Quindi su 14 punti 9 Li ha portati Gabbiadini Quindi dal punto di vista Fare un attaccante Attaccante esterno E attenzione Perché nel 4-3-3 Gabbiadini gioca sulla destra Rientrando sul piede forte Sul mancino che ha Okaka si porta i giocatori dietro Con il suo modo di fare Insomma Importantissimo Perché comunque occupa Sempre i due centrali avversari E Gabbiadini ed Eder Riescono ad entrare Tra le linee Quindi tatticamente La squadra funziona anche per questo Difensivamente parlando È logico Gabbiadini Deve coprire un po' di più È un ragazzo generoso E credo E quindi mi collego A secondo ragionamento Quando diceva anche Alessandro Che è di proprietà della Juve L'anno scorso si è parlato in estate Con Paiari Che appunto hanno voluto Chiarire naturalmente La questione anche del ruolo Di Gabbiadini alla Samba Quindi anche insomma Di avere meno compiti difensivi E più dedicarsi all'attacco Quindi è stata rinnovata La comproprietà Anche perché Gabbiadini È un attaccante Che deve stare davanti E segnare Perché più segna Più aumenta di valore Più la Juve è contenta La Samba ancora di più E quindi insomma Io credo che lui debba difendere Ma debba essere anche lui in grado Di essere lasciato anche libero Di esprimere il suo sinistro Che se negli ultimi 16 metri È devastante Il gol che diceva l'altra volta Con l'Atalanta Palla da dietro La fa rimbalzare Di sinistro La mette nell'angolino Cioè Che vogliamo di più Quindi finché continua a segnare Magari qualche copertura in meno Ce la prendiamo tranquillamente Oltre ai compiti difensivi Può prendersi anche Molte più responsabilità Come diceva il mister Secondo te? Sì appunto È importante che sappia Insomma Anche essere utile In fase difensiva Però Gabbiadini È un giocatore Che naturalmente Avendo possibilità Di esprimere Al punito di sinistro Quindi di Magari saltare l'uomo Comunque arrivare sui 16 metri 20 metri a tirare Può appunto Insomma Esprimere meglio Insomma Liberare il suo tiro Perché Mialovic Ha una predilezione Per i Gabbiadini E per il suo sinistro Quindi insomma Molte volte Arrivare fuori Gli allenamenti A fare degli accorgimenti Anche sulla posizione Sul calcio Sul tipo di piazzamento Del tiro Quindi È questo che magari chiede Difensivamente parlando Offensivamente parlando Ma anche di prendersi Anche responsabilità Insomma Di tirare di più E Gabbiadini Questo lo può fare tranquillamente Eh beh Assolutamente sì Ora Alessandro Vorrei parlare con te Di Soriano Che sicuramente È un altro Grande protagonista Sicuramente Soriano Con l'avvento di Mialovic È stato uno Dei migliori acquisti Insieme A Palombo Sono due giocatori Che con la precedente Gestione tecnica Erano nel dimenticatoio E Con il mister Mialovic Stanno Esprimendo al meglio Le loro Qualità Sicuramente Soriano È un giovane interessante Che proviene dal vivaio Dalla Sampdoria È un giovane Che unisce Qualità e quantità È un centrocampista Che sa inserirsi È un centrocampista Che sa difendere E penso che Se continui Su questi livelli Magari una chiamata Da parte di Conte Ci possa anche stare Perciò Penso che Anche l'allenatore Su tanti campi Abbia Avuto il merito Di crederci Sia su Soriano E sia Su reintegrare Un giocatore Come Palombo Che Per me rimane Il capitano Dalla Sampdoria L'unico vero capitano Dalla Sampdoria Perché Lui ha dimostrato Quando la Sampdoria Retrocessa In Serie B Di essere veramente Attaccato Alla maglia E Penso che un giocatore Che rimane fuori rosa Ad allenarsi In un campetto Da solo O è innamorato Dalla propria maglia O Non fa cose così Eh beh Assolutamente no Ugo secondo te Quanto è stato importante L'arrivo di Silvestre Eh beh Secondo me Il giocatore È un bel ptigri Diciamo Si è visto subito La difesa Ha cambiato assolutamente Così Atteggiamento Nel senso che Non è una casualità L'inserimento di Silvestre Ha dato Ora non che Un uomo faccia un reparto Però di fatto È un giocatore A me piace moltissimo C'era stato anche A un certo punto Durante le fasi La campagna acquisti L'ipotesi Che potesse Venire al Genua E sarei stato Ben ben contento Se fosse stato così Andata la Sampdoria Sono altrettanto contento Per la Sampdoria È un grandissimo acquisto Vedi che In effetti Appena arrivato È diventato Un di tre Un muro Un giocatore Ripeto Mi pare di un giocatore Che a me piaceva già prima Quindi adesso Ahimè Non nel senso Ho fatto la domanda giusta Come? Ho fatto la domanda giusta Come per esempio Anche il discorso di Soriano E Palombo Io Palombo È un giocatore Che ho sempre invidiato La Sampdoria Quando mi chiedevano Anni fa Chi vorresti Che la Sampdoria passasse Alla fine Ho sempre invidiato Palombo E secondo me È un grande uomo Un grande giocatore Un capitano poi Della Sampdoria In effetti Come c'è Alessandro E lui Uno di quei giocatori Che poi fanno mito Diventano poi Vanno nella leggenda Della bandiera E così E Soriano Anche mi piace molto Ecco Sono forse due giocatori Beh oddio Mi piace anche tanto Cacca Mi piace molto tanto Ho visto l'azione dominica Quella che si è trascinato Dietro al difensore Della Salanta Una forza della natura Veramente È un giocatore Che Mi ha veramente impressionato Impressione nel derby Non lo vedo Ogni volta Mi entusiasma sempre di più È un giocatore Che piacere a me E vabbè Comunque Buon per la Sampdoria Esatto Infatti Adesso parliamo del presidente Ferrero Che con il suo arrivo Diciamo così come un ciclone Ha fatto sicuramente parlare di sede Della squadra E in effetti Era da tanto Che la Sampdoria Non era così Chiacchierato Comunque famosa Sui media nazionali Vero? Sì L'esposizione mediatica Che sta avendo la Sampdoria Ora è insomma Incommensurabile È amplissima Quindi Neanche il quarto posto Si parlava così tanto di Sampdoria Perché si parlava Di Cassano e Pazzini Più che della Sampdoria Che erano i gemelli del gol Naturalmente Non quelli del 90-91 Che ci hanno fatto vincere Uno scudetto Però Insomma Con la giusta prospettiva Erano comunque loro Sempre in prima pagina E poi di conseguenza La Sampdoria Invece Ferrero Con il suo comunque stile Naturalmente Il suo anche folclore Però Sta comunque portando A parlare di Sampdoria In maniera ironica Simpatica Ma anche costruttiva Perché Non è il ragionamento Finché la Samp vince Ferrero va in tv E si parla di Ferrero e della Sampdoria Secondo me Anche dal punto di vista Della rottura Con gli altri tipi di presidenti Che sono in Serie A I veleni Che si respirono in Serie A Basti pensare All'ultimo Juventus-Roma La guerra che si è successa Insomma Tra rigori e situazioni particolari Un presidente così particolare Così estroverso Così simpatico Perché per tutte le altre squadre Insomma E altri tifosi È un presidente simpatico Ma in a Genova Ancora qualcuno Storce il naso Per Ferrero L'Inno Lo stadio Insomma Pian piano Si metteranno le cose a posto Però credo che dal punto di vista Veramente mediatico Fa tutto bene Questo qua La Sampdoria Finché poi Non cade di stile E non credo che accadrà mai E non ci sono cose particolari Fa bene Poi è logico Che se hai risultati positivi Uniamo la simpatia All'esposizione mediatica Tutto di guadagnare Quindi insomma Io sono Fino a questo momento Pro Ferrero Quindi insomma Speriamo che vada tutto bene così Direi Poi comunque Fai anche parte dei media Quindi Sì sì No 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 A questo punto di vista Io credo che Ospiti a Mediaset Ospiti alla Rai Ospiti a Sky Cioè Lo chiamano tutti Perché vuol dire Che comunque fa ascolti Fa audience La gente segue i programmi Perché c'è Ferrero Che può fare la battuta Può essere simpatico Quindi serve Insomma Questo calcio pieno di velini E cose varie Un personaggio così serve Quindi se poi è nostro Insomma Della Samp Qualcuno ripete Abituato a Garrone Quindi ha uno stile diverso Che ci sta Ci sta assolutamente Importante Che la Samp Da Mantovani Abbia avuto Anche una situazione rigorosa Però Ripetiamo Comunque Ferrero Non fa male a nessuno Quindi insomma Finché paga gli stipendi Finché le cose economiche Sono in regola La Samp vince Ci accontentiamo Insomma Di quello che è Ecco Alessandro Parlando di generale Secondo te Fa bene Ad una squadra Tutta questa esposizione mediatica È un bene o un male a volte? Allora È un bene Finché Vai bene È un male Quando Non vai più bene Perché poi Sei sotto la lente Di ingrandimento Di tutti Ciò non toglie Che comunque Il presidente Ferrero Ha portato Con la sua persona Con il suo personaggio Tra virgolette Una ventata di novità In un calcio Che Sta veramente Esasperando gli animi Perché Arrivare a parlare Di una partita di calcio In Parlamento Mi sembra un po' esagerato Visto che il paese Ha Anni altri problemi Più importanti Ciò non toglie Che comunque È un presidente Che ha Che ha dato Un'immagine Del calcio Un po' diversa A me Non dispiace Logicamente Io sono Sono abituato A Mantovani A Garrone Che avevano delle linee Molto più Rigorose Molto più Tracciate Però anche Presidente Ferrero Ho visto che Ha un buonissimo rapporto Con i giocatori Con i tecnici Poi finché Le cose vanno bene Va tutto bene Poi penso che Si sia creato Una sintonia Anche con la tifoseria Che può Portare la Sampdoria Magari a traguardi A inizio anno Non pensati Bene bene Bravo Ferrero Allora Ugo Adesso parlando di Genova Sembra che Matri Ormai È il centroavante Del Geno E Pigniglia Si dovrà accontentare Dall'occasione che avrà Cosa ne pensi? Sono d'accordo Sì d'accordo Sì sì Pigniglia Sicuramente È un buon giocatore Un buon acquisto Ma io so che Mediamente Pigniglia Potrebbe essere smentito Anzi magari Vorrei essere smentito È un giocatore Che poi a livello di rendimento Ti fa un terzo di campionato Ecco Ma non perché sia uno Che batte alla fiaco Per qualche Però per la sua costituzione Così di giocatore Quindi è un ottimo Secondo me è un giocatore Da parola Da panchino È un giocatore Che può subentrare Ma secondo me Si deve puntare Su Alessandro Matri Assolutamente Perché Infatti anche Gasperini Appertamente ha detto Che lui voleva Questo giocatore Crea molto in lui E mi pare Che ora Deve crescere ancora un po' Perché mancherà ancora Però ripeto Dei due Credo che Deba essere lui titolare Corrado Sei d'accordo? Allora Inizialmente Era titolare Pigniglia Quindi insomma Pigniglia è un attaccante Importante Però oltre a quello che dice il mister Che decade di rendimento Pigniglia si infortunia spesso Come giocatore È molto fragile Dal punto di vista fisico Quindi Ha fatto bene il Geno A prendere un'alternativa Come Matri Che poi magari Si potrà rivelare il titolare Matri viene da una stagione A Firenze Negativissima L'anno scorso E quindi insomma Può fare bene Magari può essere lui titolare Ma è il Pigniglia Che rientra A partire in corso Bene Allora Prego Hugo Vai Io impiango Gilardino Sia ben chiaro Sia quello Sia tutto anni La tradizione A Genova In via Canevari Al 42 Rosso New Generation Al 56 Rosso Dentro e Fuori Arreda la tua casa Al 62 Rosso Midtown Cafè In via Bobbio Al 54 B Rosso Air Dream By Elena Al 60 Rosso Ristorante e Pizzeria New Sole Mio 4 Di Antonio Al 42 Rosso Rosticceria Gente di Mare Al 54 C MS Moto Celleria da Claudio Via Canevari 215 Rosso Genova Corsi di ballo Lady Laura Dance School Salsa New York e Los Angeles Style Bacciata Merenghe Zomba E molto altro Per informazioni Contattaci su Facebook O chiama al 348 28 36116 Ristorante e La Prodor A tu per tu con il mare Via del Porto 16 A Genova Lenzano Fabri Gomme Via Canevari 134 Rosso A Genova Hotel Sommelier A Bardonecchia In piazza Statuto 3 Contattaci allo 0122 99582 Oppure invia una mail A infochiocciola hotelsommelier.it